Mamma Chia, conosciuta come Madre Luna, è un'entità fondamentale nella mitologia e nella religione inca. Personifica la luna ed è venerata come protettrice delle donne e delle feste femminili. La luna svolgeva un ruolo fondamentale non solo in ambito religioso e mitologico, ma anche nella vita quotidiana, influenzando i costumi agricoli e sociali. Mamma Chia era la sorella e moglie del dio del sole Inti e la madre di Manco Kapak, e Mama Oklo, i mitici fondatori dell'impero inca. Non solo rappresentava la luna come dea, ma incarnava anche il passaggio del tempo e i cicli mestruali ed era profondamente radicata nei rituali agricoli e nelle cerimonie di fertilità. Mamma Chia aveva un ruolo importante nei cicli agricoli incaici. La luna veniva usata per stimare il tempo e stabilire i tempi ideali per la semina e il raccolto. Si riteneva che le sue fasi influenzassero la crescita delle piante e la resa dei raccolti. Numerose erano le feste e i rituali inca dedicati a Mamma Chia. Durante la Coya Raimi, una festa di settembre, le donne svolgevano un ruolo centrale nelle celebrazioni. Queste feste includevano danze, offerte e rituali per ottenere la protezione e la benedizione di madre luna. Mamma Chia era spesso raffigurata nei manufatti e nei templi inca. La sua iconografia includeva immagini della luna nelle sue diverse fasi, mentre era spesso raffigurata con l'argento, un metallo che simboleggiava la luna nella cultura inca. La venerazione di Mamma Chia è ancora una parte importante delle tradizioni andine contemporanee.